Consenso informato e fine vita, biopolitica ed aspetti etico-legislativi, è stato questo il tema dell'incontro promosso dall'ente culturale Nicola Vigliotti di San Lorenzello e dall'associazione Biblos Biblioteca del Sannio di Cerreto Sannita, che si è tenuto venerdì 21 aprile presso il Palazzo del Genio della cittadina Sannita. Il tema molto delicato è al centro dell'attenzione politica nel nostro paese, soprattutto negli ultimi mesi, anche a seguito delle ultime vicende legate agli italiani che sono ricorsi all'eutanasia recandosi in Svizzera. Sul tema abbiamo ascoltato alcuni degli ospiti che hanno preso parte all'incontro. Un argomento delicato che la politica in questi ultimi giorni sta affrontando. Non crede che ci siano dei ritardi ineccepibili anche alla luce di quelli che sono stati gli ultimi tragici situazioni che hanno messo in evidenza forse appunto un aspetto così delicato e così importante per la vita e anche soprattutto per la morte. Importante legiferare, legiferare bene. Tempestivamente, con ritardo, sono tutti i tempi che vengono dati da una dialettica politica su un tema eticamente sensibile che richiede massima riflessione. Sarebbe molto facile dire rapidamente approviamo una legge che favorisca e introduca in Italia l'eutanasia oppure viceversa dal luogo ad un abbandono terapeutico delle persone in situazioni di grave disagio e di grave disabilità. Io credo che il legiferare contempla non solo pagatezza e ponderazione ma attenzione in ragione anche di quelli che sono i vincoli dati di alcuni articoli della Costituzione, l'articolo 32, l'articolo 2, l'articolo 13 che sono tutti articoli questi che richiamano non solo la libertà di cura ma evidentemente l'autonomia e l'indipendenza e la libertà da parte del paziente. Noi tra qualche giorno avremo il progetto di legge al Senato, l'avremo in Commissione Igiene e Sanità dove io sono componente e in Commissione Affari Costituzionali dove sono anche lì componente. Il dibattito non dico che si riaprirà ma che continuerà in ulteriore approfondimento di quelle che sono state le tematiche affrontate alla Camera. L'argomento delicatissimo e così come è delicata ovviamente la visione da parte della Chiesa. Un argomento molto molto delicato che ha bisogno ovviamente di riflessioni attente, anche di una riflessione molto paziente che ha bisogno anche di un dialogo necessario con le istituzioni, con coloro che in qualche modo sono competenti in materia giuridica, medica. Non è facile, non stiamo vivendo un tempo semplice da questo punto di vista, per cui credo sia necessaria anche la riflessione comune, che sia una riflessione sempre più dialogica tra di noi, proprio per raggiungere a dei giudizi che poi vengono formulati in norme precise, ma che siano veramente norme che indichino il valore della vita, che indicano la sacralità della vita e non la negazione di essa. A proposito proprio del valore della vita, questi recentissimi casi, drammatici casi, hanno posto un po' all'attenzione dell'opinione pubblica anche questo aspetto, diciamo senza forse separazioni tra quelle che sono le opinioni del mondo, dei cristiani, rispetto a quella che invece è l'attiva politica che proprio in questi giorni ha già di fatto approvato una parte del Biotestamento. Non crede però che anche proprio di fronte a queste situazioni così drammatiche l'intervento della Chiesa in questo senso, anche la voce in maniera più preponderante della Chiesa possa indicare e dare indicazioni anche più specifiche al mondo politico e anche al mondo legislativo che supporta chiaramente l'azione politica? Sì, credo sia necessaria la voce della Chiesa come voce non tanto nella sua autorevolezza specifica ma proprio come aiuto alle coscienze a discernere le vie del bene, le vie concretamente possibili da percorrere. Forse attualmente non c'è una presa di posizione chiara, insomma esplicita ma credo che il pensiero della Chiesa sia abbastanza conosciuto e anche noto attraverso i suoi documenti, gli interventi magisteriali per cui credo che si farà sentire. Lei pensa che il problema sarà risolto o meglio la soluzione anche nel nostro Paese sarà risolto a breve o credo che ci saranno ancora tempi lunghi? Io credo che si è innescato un processo, un processo necessario perché anche l'Italia deve avere una legislazione su questi argomenti ma è solo iniziato un processo, credo che poi questo processo giungerà ad una conclusione e spero che sia una conclusione a favore della vita e non a sfavore. L'approccio della magistratura, di un magistrato, cioè quegli aspetti etico-legislativi per un argomento così delicato, qual è l'opinione? La sua opinione? Allora, è proprio il fatto di essere magistrato costituisce un limite a poter esprimere opinioni su un argomento come quello delicatissimo del testamento biologico del consenso informato per il semplice fatto che è in corso un procedimento legislativo e bisogna avere rispetto della formazione, della libertà e della rappresentanza parlamentare, è un fatto di civiltà e quindi più che come magistrato rispondo da giurista alla sua domanda e nel totale rispetto dell'autonomia dell'organo legislativo e come giurista pratico ritengo che si tratti di un argomento delicatissimo che va affrontato con una consapevolezza piena delle implicazioni, delle scelte che sono ricollegate alla opzione per l'una o l'altra soluzione che sono sul terreno. Innanzitutto, da un lato il diritto alla vita, sacro, inviolabile, tra i diritti nella scala di valori è, senza alcun dubbio, il più importante e da tutelare con maggiore vigore. Dall'altro, la libertà di autodeterminarsi. Il diritto di libertà di autodeterminarsi sotto il profilo della cura medica e delle terapie è altrettanto di valore ed altrettanto di grado e rango da richiedere attenzione e tutela elevatissima. Nello scontro inevitabile che questo argomento legislativo pone tra i due diritti, il giurista non può far altro che fornire al decisore quali sono gli elementi per propendere per l'una o per l'altra soluzione e soprattutto come giungere ad una decisione, se giungere ad una decisione, in considerazione di tutti quelli che sono gli elementi in gioco. Secondo lei, anche chiedendole uno sforzo, al di là di quella che è la sua posizione che lei ha premesso da giurista anziché da magistrato, non crede che però la politica in generale sia un po' in ritardo rispetto a questi aspetti che lei ha così dettagliatamente sottolineato e non crede che appunto ci sia bisogno di un intervento che risolva il problema in maniera molto più veloce, soprattutto alla luce di questi ultimi recentissimi episodi che hanno visto costretti alcuni italiani a dover andare fuori dal nostro paese per ricorrere purtroppo alla fine vita. E' proprio la sua domanda che mi dà la possibilità di rispondere nettamente. Innanzitutto il legislatore non è mai in ritardo perché il non intervenire su una materia delicata come quella bioetica può essere anche frutto di una scelta ben precisa. E in secondo luogo il fatto di essere costritti, come lei dice, ad andare all'estero per ottenere determinati trattamenti di fine vita, dal mio punto di vista non costituisce assolutamente una messa in mora di un ordinamento giuridico. Costituisce semmai l'estrinsecazione di un diritto che viene riconosciuto a livello globale in altre aree e che ancora non viene riconosciuto nel nostro ordinamento. Ma non è detto che la scelta del nostro ordinamento di non riconoscere quel diritto sia deteriore rispetto alla scelta di altri ordinamenti. E' un argomento delicatissimo. Le dico questo che il percorso della vita alla nascita e il percorso della morte, quindi alla fine della vita o della fine vita, trovano diverse modalità di soluzione in termini giuridici in tutto il mondo. Non esiste una formula magica valida per tutti gli ordinamenti e per tutti i casi. Addirittura oso dire che tentare di regolamentare materie così delicate può essere pericoloso, perché nello sforzo che fa il legislatore di adottare regole generali ed astratte può sempre lasciare aperti spazi a una discrezionalità interpretativa pericolosa. Sono materie delicatissime. L'unico contributo che il giurista serio può porre a chi si occupa della politica a livello di indirizzo politico costituzionale è fornire tutti i dati per consentire una serena, consapevole ed informata decisione. Un ritardo della politica italiana per un argomento così delicato. Qual è secondo lei l'approccio più giusto alla luce anche degli ultimissimi sviluppi, delle votazioni che sembrano orientate verso una definizione di questo problema? Noi rischiamo di farci condizionare molto dalla cronaca. In realtà, contrariamente a quello che si dice e si scrive, nel nostro ordinamento era già prevista la libertà del paziente dentro le libertà della persona di rinunciare alle cure. E nel nostro ordinamento era già prevista la soglia dell'accanimento terapeutico oltre la quale non si poteva andare. In realtà questa è una legge che esplicita dei principi che erano già presenti nell'ordinamento giuridico e lo fa in una maniera, a mio avviso, un po' formalistica, perché la questione sarebbe stata e sarebbe intervenire su come si esercita questa libertà. Il punto di partenza in una situazione così delicata, direi, dovrebbe essere quello dell'alleanza tra medico e paziente. Quindi non tanto fermarsi al riconoscimento della libertà, ma capire come la persona decide informata insieme alla persona che è tenuta a curarla. Questo aspetto estremamente delicato, che è un aspetto che emergerà nelle situazioni limite, dove sarebbe necessaria questa alleanza tra chi cura e chi deve essere curato, anche per effettuare opzioni. Questa è una cosa che viene completamente lasciata da parte. In realtà si riconosce la libertà di decidere, ma si lascia la persona sola, quasi disperata. Quindi di fatto lei riconosce che c'è un po' di confusione in tal senso? Probabilmente la legislazione non è chiara? Questa è una norma che è stata esposta a tesi politiche e a fatti di cronaca del passato. Le leggi dovrebbero fissare pochi chiari principi di ordine generale, dentro i quali poi si trovano attuazione i fatti della realtà. Questa norma è un po' rivolta al passato e come se volesse risolvere oggi alcune vicende che si sono verificate anni fa. Penso a quella di Eluane Inglaro. E ripeto, riconosce una libertà e lo fa in maniera molto fredda, dove riconosce la libertà alla persona, ma nel momento in cui io devo decidere oggi per quando sarà, senza sapere qual è la mia patologia, senza sapere qual è l'ipotesi di terapia, senza sapere qual è il medico che mi cura. In realtà mi lascia una libertà, ma mi lascia pure nella disperazione. Come faccio io a decidere oggi qual è il trattamento al quale voglio sottopormi o al quale non voglio sottopormi tra vent'anni? Si è persa l'occasione di disciplinare una libertà già presente nel nostro ordinamento, sollecitando l'alleanza medico-paziente. Invece questo è un aspetto completamente messo da parte.